Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale non sono interessati a poltrone di nessun genere, lo dice ancora una volta il suo coordinatore comunale, a seguito di alcune indiscrezioni venute fuori nei giorni scorsi su possibili spartizioni di poltrone. Per quanto riguarda il mio interessamento e il mio partito, tengo a precisare che noi non siamo assolutamente interessati ad avere nessun ruolo, tant'è che oggi non lo abbiamo, né all'interno dell'amministrazione come ruolo di gestione diretta, che è quello della Giunta, non abbiamo uomini all'interno delle partecipate, non abbiamo responsabilità negli altri enti strumentali, vedasi BIM, Tercas e altre cose, quindi il nostro partito attualmente svolge politica all'interno dell'amministrazione come forza di destra in un contesto di coalizione di centrodestra, ma non abbiamo ruoli e non siamo assolutamente interessati a nessun rimpasto. Ho letto nomi di altri consiglieri, di altri partiti, quindi probabilmente il rimpasto interesserà chi oggi è in Giunta, Forza Italia, Futuro In, nuovo centrodestra di Alfano e qualche lista civica come quella di Mauro Ialmazzi. Noi non abbiamo ruoli e non siamo assolutamente interessati al rimpasto all'interno di questa amministrazione. Michele ricorda i tempi biblici del rimpasto di Brucchi iniziato a febbraio. È iniziato un percorso di rivisitazione dell'andamento amministrativo che Brucchi aveva già annunciato tempo fa. Questo percorso di rivisitazione o tavolo politico allargato, come lo si vuol chiamare, è iniziato nel mese di febbraio-marzo. Credo che un tavolo politico non possa durare una consigliatura intera di cinque anni. Il tempo è scaduto. E a proposito di un possibile incarico all'interno della Fondazione Tercas, Micheli ripuntualizza. Non siamo interessati neanche a questo incarico. Tengo a precisare che la Fondazione probabilmente ha bisogno di persone di grande professionalità e capacità, sia amministrativa che gestione, ma anche figure spendibili della nostra città. Micheli propone poi o nel CDA o alla presidenza della Fondazione Tercas un nome di prestigio. Un nome che mi viene così, ma non perché è vicino al nostro partito, credo che non lo sia assolutamente, è Gianni Gaspari, per esempio. Alla presidenza? Alla presidenza, ma anche all'interno del Consiglio di amministrazione. Una figura sicuramente di grande capacità professionale che ha dato sempre lustro alla nostra città, ha sempre dimostrato qualità. È un esempio, probabilmente lui adesso che si ascolta questa intervista dirà ma io non sono interessato. Però ecco, dobbiamo elevarci al ruolo di amministratori di piccolo condominio e cercare di arricchire questa città di professionalità e di capacità e non di spartizioni politiche.